Hey guys, yo yo yo, I'm Alphix, you're Alphix guys in our new race ragazzuoli con la nostra T20, con la Nuestra T20, con la NOS, te vinci? Si, I assume si dice in portugais Vamos ragazzi, iniziamo questa gara Sono stato imitato da questi amiconi e solo T20, infatti vedete ragazzi, una manda di T20 che corre impazzita così i colori di arcobaleni, però ci sono molti colori molto simili al mio Iniziamo con una rampona così, anzi rampetta direi Questa piattaforma ragazzi, non so che gara sia Si chiama Fuck The System Quindi qualcosa di... Che cazzo, perché è rallentato così? No raga, avete visto l'auto come è rallentato, porca miseria Non si bugga così, mi fanno salire proprio veramente il Cristo che veramente blur, non è niente in confronto a me Comunque raga, io vi volevo ancora ringraziare per i 100.000 iscritti per me è una cosa, cioè, veramente incredibile perché non lo avevo mai credo Come solo raga, prima di ringraziarvi per fare le tour in merda Infatti eccole qui Dicevo raga, io quando ho aperto il canale veramente l'ho aperto così perché mi piaceva fare i video Mi piaceva, comunque inizialmente c'era un supporto Soprattutto devo essere onesto dei brasiliani Loro mi hanno cominciato a seguirmi E poi raga, poi Per fortuna siete arrivati più italiani voi E tutto... dove cazzo devo andare? Mamma mia, sono alla fine nella... nella rampa Il contene, comunque me ne fottete questa gara Volevo ringraziarvi ancora una volta Per questi 100.000 Cioè, forse non mi rende voto 100.000 persone hanno premuto quel bottoncino Raga, quel bottoncino rosso Cioè, una cosa assurda So... so... lo dico in inglese Ragazzi, ora devo concentrare un po' di più Perchè siamo al 15.000 post E non va bene Non va bene ragazzuoli Non va bene 3 giri 3 giri Qualcosa si potrebbe fa' Però siamo a 30 secondi dal primo Difficilmente possiamo recuperare tutto questo gap Ci proveremo raga Cerchiamo di aggiungere, lo sapete I canonici 1000 like Non mi chiedo tanto raga Si possono aggiungere No, però c'è Io non capisco se è sfortuna Se sono un hub Perchè c'è Tutte le cariche che ho fatto fino ad ora le ho vinte Poi giustamente Registro Questa è la vita Secondo posto Quattordicesimo Andiamo un po' a dipendere Più velocità possibile Rampa qui Non mi deludere ora Dodicesimi ci porta Quello è un... Un ride un po' strano Spirale è abbastanza... Dura perchè... Ok perfetto Giriamo qui Decimo posto raga Dai 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 Rapido rapido Oh cazzo Salta al contrario Settimo posto Abbiamo fatto un buone cura Praticamente abbiamo recuperato Sette posizioni La metà di quelle che avevamo Quarto posto addirittura ragazzi Questo è il terzo forse Beh no man è il terzo Quindi... Ma perchè ho frenato? Noo... Cartello di merda Il gioco va veramente a 10 fps Terzo posto ragazzi Ottimo così Ho fatto un recupero spaventoso Veramente spaventoso Questo è il secondo Non mi dire No è il terzo Questo sarà qualcuno che è stato doppiato raga Levanti davanti al cazzo Terzo posto No 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 Mi superare bro Non so il primo quanto dista Tra poco appena avrò Un attimo di pace Vedrò ragazzi Classifica Strade veramente insidose queste raga Giustamente di nuovo qui mi vado a sbattere Ok 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 Allora raga 30 secondi dal primo cazzo Stava facendo una gara incredibile X-Maz Quindi... Se riusciamo a mantenere questo terzo posto Magari invita al secondo Se Tristoff sbaglia Magari Se ci fa sto piacere Tutti ne saremmo grati Non sbagliarmi il T20 mi raccomando Uhhh cazzo raga Stavo quasi a sbagliare Dai dai T20 dai Non deludermi Perfetto così Dai 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 veloce veloce la pidola La pidola vai Ci vuole più progetti la raga Non mi sbagliare Eh terzo posto raga Non hanno sbagliato Quei malandrini Non hanno sbagliati Malandrao 14 secondi vabbè raga Ce ne andiamo a prendere Sto terzo posto Mi raccomando raga Lasciate il... Il big up il leccozzo Il pollicione Chiamatelo come lo volete E... Sapete che mi fa sempre tanto piacere Ci vediamo direttamente al traguardo a sto punto Raga vi confermo il terzo posto E ci vediamo al prossimo video Falou E' noice Goodbye guys E' noice E' noice E' noice